Un aereo vola sopra la casa per Aldo, la dedica di incoraggiamento da parte dei fan per il campione olimpico. Questa mattina, la maggior parte dei VIP si trovava in cortile e un bel aereo fa una bella sorpresa e incoraggiatrice per Aldo, molto emozionato nel vedere tutto il sostegno che da fuori gli vogliono dimostrare. Un aereo passa sopra alla casa del grande fratello con un messaggio molto importante per il campione. No Aldo, fuori dal GF solo da vincitore. Il calore dei suoi sostenitori si fa sentire in questa giornata di fine novembre, per dare forza e ricordare al nostro atleta che fuori la gente lo ama e lo supportano. Aldo, contento della sentita dichiarazione, saluta e ringrazia i suoi fan. Super contento tanto da abbracciare gli altri inquilini, finalmente anche per lui è arrivato un aereo. Voi vorreste che Aldo rimanesse dentro la casa? Secondo voi potrebbe realmente essere il vincitore?